Il più illustre esempio di questa categoria di oggetti, cioè vasi prodotti in Grecia ed illustrati da famosi pittori, in questo caso noi abbiamo anche il nome dei due pittori di ceramografi che lo realizzavano, cioè Cleizia ed Ergotimus, ma in modo particolare è eccezionale l'apparato decorativo di questo vaso, cioè è diviso in sette registri, in questi sette registri sostanzialmente noi abbiamo una somma straordinaria di quella che era la mitologia del tempo. Le funzioni di questo grande cratere che erano quasi certamente legate al simposio, questo è stato confermato anche da una serie di osservazioni molto di dettaglio fatte guardando all'interno del vaso, quindi un vaso che veniva usato in situazioni molto particolari, purtroppo non sappiamo esattamente in che tomba si trovasse perché il François lo trovò all'interno di due tumuli che erano stati saccheggiati in antico e recuperò i frammenti sparsi sia in una tomba che nell'altra, quindi sicuramente faceva parte di un corredo di gran pregio di una famiglia che potremmo definire aristocratica e rientra in quello che allora era il costume delle aristocrazie etrusche del tempo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!